Per rispondere, non mi ritengo soddisfatto di questa risposta perché dall'anno scorso era stato detto, è parlato dall'assessore Ceri che questo percorso era iniziato e che avrebbe avuto termine a aprile di quest'anno, quindi del 2009. Sinceramente mi sembra abbastanza particolare il fatto che i percocenti vengono fatti a settembre e che il 2 di ottobre si riesca a inserire all'interno di un percorso informativo un aspetto che è ritenuto comunque importante dalla comunità e che per l'altro era stato votato anche dalla maggioranza, quindi era stato disegnuto importante anche dalla maggioranza. Quello che vorrei sapere, se è possibile dare una risposta, sì, mi diceva che la cittadinanza onoraria Cesarama, a questo punto mi domando quando, se questo dipende appunto dalla disponibilità di Pino Mascia, penso non solo, ma da questo progetto che ad oggi è stato portando avanti e che a questo punto, non so quando ti ringrazio, alla fine hanno visto l'aschio, seppure potrebbe essere presistibile in questo sistema.